1975-2020, 45 anni di radio in una canzone. Domenica 11 ottobre alle 21 sulle radio italiane e sui loro canali TV e social, Gerry Scotti presenta la serata conclusiva di I Love My Radio. Finalmente sapremo qual è stata la canzone più votata fra le 45 che vi abbiamo proposto. Domenica 11 ottobre alle 21 a radio, TV e social unificati. Una serata imperdibile per chi ama, per chi fa e per chi ascolta la radio. I Love My Radio.